A me dispiace dirlo al giorno perché noi essendo titolare di 5 macellerie equine, sia in via Mecenate che in Corso Sempione, andiamo contro il nostro interesse, per cui essendo un gruppo poligrafico molto potente abbiamo diversificato oltre alla carta stampata anche macellerie equine. Qui noi abbiamo deciso che questi cavalli li teniamo e li vendiamo a Moira, lei li istruisce, li mette il pennacchio in testa e li fa saltare i birilli o non so cosa fanno. Comunque dispiace vedere i cavalli che stanno così bene e molto sereni, per cui a questo punto vogliamo fidanzarci con la titolare del maneggio che è una donna bellissima, erede di Maria Teresa d'Austria che però non risulta più dagli altri notarili ma a me mi ha detto non ho motivo di dubitare, l'ho conosciuta ieri in bireria Piacenza, mi ha detto mia bisnonna era derivata da una famiglia degli Asburgo, ha messo su questo maneggio qua, noi vorremmo ciulare un cavallo adesso, chi si prende la responsabilità di caricarlo? Io no, perché il giorno mi ha detto tu fai le cazzate ma devi risultare tu, ragazzi fate risultare qualche giornalista del giorno, a me non mi interessa niente, qui ci sono dei cavalli molto belli, noi li vendiamo tramite il giorno, quello lì costa 230 Euro, quello lì diciamo con la macchia sulla testa e il pony vi invia con 8 Euro, è anche poco, un pony dai comprare un pony 8 Euro, un domani lo tieni, puoi anche fare dei servizi per il National Geographic, fai vedere cosa c'è il pony, va bene ma il pony ce l'hanno tutti, quindi ragazzi io non riesco capire, anche la raccolta differenziata va fatta, a questo punto, hai visto? Cosa faccio? La metto in macchina? Non penso, non sono drogato, però voglio metterla in macchina, come uomo voglio farmi vedere dal giorno, quando è finito di riprendere facciamo ancora così, e andiamo avanti tutto il giorno? Non so se si può lavorare così, a questo punto non vengo più, è l'ultima volta che lavoro per il giorno, mi spiace dirlo, vabbè dai andiamo a questo punto.